Ciao a tutti e benvenuti. Parliamo della dinamica delle valutazioni a distanza. Nella prima parte affronteremo il tema di elementi di analisi di serie di voti. Vediamo di cosa si tratta. Di che cosa ci occupiamo? Analizziamo quello che ho creato in questa pagina. Allora, qui abbiamo delle valutazioni. Per esempio Rossi ha avuto 3, Verdi 3, Bianchi 4, Brambilla 6, Viola 8 e Pautasso 8. Sarebbero gli studenti, possono essere 6 studenti, possono essere 30, 40, 100, non ha importanza. Qui abbiamo alcuni strumenti di indagine statistica. Abbiamo la moda, la mediana, la azione standard e il voto medio, cioè la classica media dei voti ottenuti. Stiamo considerando un corso, attenzione, non sono i voti di un singolo allievo. Perché stiamo considerando un corso? Perché vogliamo cercare di capire il complesso delle attività che noi abbiamo svolto, che sono sfociate in una valutazione finale, da un punto di vista degli strumenti semplici, più elementari, che chiunque può applicare, di indagine statistica che un foglio di calcolo come questo ci può mettere a disposizione. Quindi il voto medio non è la media di un soggetto che durante un periodo di tempo ha acquisito queste valutazioni, ma è la media delle valutazioni finali che noi abbiamo stabilito in un dato corso. Per esempio potrebbero essere le valutazioni che proponiamo durante uno scrutinio finale del primo quadrimestre o del secondo quadrimestre o di un altro corso universitario, un master o di qualsiasi altra natura. Poi qui abbiamo inserito la scala di voti che abbiamo usato e quindi in questo caso da 1 a 10. Diciamo che potrebbe essere questa la scala di riferimento, oppure vediamo un altro tipo di scala di riferimento da 3 a 9. Inserendo qua dei numeri nella tabella che poi vi sarà consegnata, naturalmente cambieranno questi valori statistici perché qui abbiamo inserito delle formule e vi spiegherò anche come si inseriscono queste formule. Adesso ragioniamo. Ragioniamo però prima di tutto dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando. Allora partiamo dalla moda. Che cos'è la moda? La moda indica il numero che ricorre con maggior frequenza. In questo caso abbiamo il 3 che ricorre con maggior frequenza e poi naturalmente abbiamo anche l'8. Teniamo in considerazione però da un punto di vista statistico e di analisi di ciò che abbiamo fatto, teniamo in maggior considerazione gli elementi negativi, in questo caso per le ragioni che poi vedremo. Quindi la moda, ripeto, indica il numero che ricorre con maggior frequenza e questo è un 3. Poi abbiamo la mediana. Che cos'è la mediana? La mediana indica il valore centrale della serie, cioè dove si colloca la metà di questa serie, non la media dei voti che è data dalla somma di questi voti diviso il numero di voti che abbiamo assegnato. La metà di questa serie, quindi la mediana, è 5 e si colloca qui. Poi abbiamo la deviazione standard. Che cos'è la deviazione standard? La deviazione standard misura lo scarto medio dei numeri dalla sua media, quindi la deviazione standard in questo caso è di 2,3. Lo scarto medio dei voti, in positivo o in negativo, dalla media è di 2,3 punti, quindi abbiamo una deviazione standard abbastanza elevata. Voto medio. Il voto medio è quello che calcoliamo tutti normalmente ed è quello che ho spiegato prima, cioè la somma delle valutazioni diviso il numero delle valutazioni stesse. Notiamo intanto che c'è una differenza tra la mediana e la media. La mediana, cioè la metà dei voti, è più bassa della media. Vediamo adesso che cosa significa l'applicazione di questi strumenti, ripeto, minimi, elementari, ma che tutti possano essere in grado di utilizzare. In primo luogo possiamo osservare che all'apparenza i sei allievi sembrano avere una specie di rendimento medio perché tre hanno una valutazione negativa e tre positiva. I dati però in realtà attraverso questa semplice analisi statistica mostrano invece che il corso presenta dei problemi pedagogici. Perché? Cominciamo a vedere come stanno le cose. Intanto partiamo dal voto medio assegnato. Il voto medio assegnato è 5,3 punto 3 ed è inferiore alla media dei voti possibili che è rappresentato da 5,5, cioè dalla mediana della scala di valutazione. Vuol dire che, vedete la differenza tra questi due numeri? Certo è una differenza ridotta, 0,2, però indica il fatto che, come dire, il corso è spostato verso il polo negativo della valutazione rispetto a quello positivo. Quindi c'è già una tendenza che è molto ben descritta da questa elementare analisi statistica. Notiamo ora che uno dei problemi di questo corso è la polarizzazione delle valutazioni agli estremi con una distanza importante rispetto ai valori intermedi. Da che cosa ricaviamo questo giudizio? Prima di tutto dalla moda. La moda ci mostra che i due voti ricorrenti sono il 3 e l'8, con un significato particolare per i voti negativi perché incidono di più sulla scala della valutazione. Guardiamo la deviazione standard. La deviazione standard ci mostra che lo scarto dei voti rispetto alla mediana e alla media, che sono i due valori che ci interessano, è elevato, è di 2-3 punti, quindi conferma un'impressione generale di polarizzazione della classe all'interno di questo corso. Quindi noi potremmo dire che nella sostanza i nostri allievi o hanno capito tutto o hanno capito poco. E quindi dobbiamo concludere che dobbiamo strutturare degli elementi di rinforzo che incidano nella comprensione media, cioè a questo livello, perché normalmente qualche cosa si capisce, qualcosa non si capisce. Dobbiamo avere una struttura media abbastanza diffusa poi con delle eccellenze da una parte, magari delle punte di caduta dall'altra, ma una distribuzione un po' diversa delle valutazioni. Questa mancanza di un livello intermedio è importante per quanto riguarda questo corso. In altri casi il livello intermedio potrebbe essere eccessivo, quindi non bisogna prendere questo tipo di analisi come se fosse un modello assoluto, dei valori di riferimento assoluti, bisogna proprio analizzare i dati concretamente. E dobbiamo anche notare che questa situazione di polarizzazione è messa bene in evidenza da un grafico a radar. Il grafico a radar illustra molto bene qual è la tendenza proprio visiva delle valutazioni all'interno di questo corso, ma non è un problema di valutazioni, è un problema proprio di struttura del corso stesso. Alla luce di queste semplici e, ripeto, elementari indagini, ma comunque applicabili da tutti facilmente, quali sono quindi i problemi che questo corso ha presentato? Vediamoli. In termini più concreti direi che il quadro è questo. Polarizzazione. Oltre la metà dei partecipanti non ha capito ciò che è stato spiegato e due terzi dell'altra metà positiva lo ha capito fin troppo bene. Quindi solo le persone particolarmente intelligenti hanno tratto beneficio dal corso. Ciò vuol dire che il corso non è stato adeguato in termini cognitivi, soprattutto in riferimento alle basi elementari necessarie per seguirlo. Si può supporre inoltre che le persone particolarmente intelligenti avrebbero anche potuto acquisire le nozioni senza bisogno di un corso specifico, particolarmente intelligenti e dotate delle basi necessarie per seguire il corso, cioè sono messi nella condizione di poter fare a meno del corso stesso. Quindi, come dire, noi potremmo escludere questi due voti dal computo delle valutazioni e avere un quadro veramente disastroso di quello che è stato fatto all'interno di questo corso. Continuiamo. B. In ogni caso ciò che è stato fatto male è stato fatto davvero male. Dato che su sei voti quelli negativi o più vicini al limite negativo come sei solo la maggioranza e aggiungiamo gli altri due indicano delle eccellenze. Delle eccellenze che, ripeto, avrebbero potuto anche far meno di questo stesso corso. C. Occorre dunque ristrutturare la logica del corso in modo che le basi elementari siano compresi da tutti e quindi bisogna pensare alle modalità squisitamente didattiche di articolazione, cioè dobbiamo fare in modo che queste persone, a meno che non siano in una condizione particolare di un certo tipo che esula dalla nostra trattazione, ma che queste persone possano disporre di quelle basi necessarie, indispensabili per poter seguire il corso e quindi innalzare tutto il trend. Innalzare tutto il trend vuol dire che questi soggetti avranno delle valutazioni molto più elevate e invece i soggetti collocati nella scala più bassa potranno innalzare notevolmente il corso. Qui entrano in gioco tutta una serie di riflessioni pedagogiche che vanno da Vygotsky ad Osubel eccetera, ma che esulano dal contesto della nostra trattazione. Vediamo invece come ultima cosa come si creano le formule per calcolare questi dati a livello statistico. Vediamo prima di tutto qui come sono composte. Faccio un doppio clic e osserviamo la formula che viene riportata anche qui. FX vuol dire la funzione che ci consente di ricavare in questo caso la moda. È semplice, abbiamo un uguale. Uguale significa che noi stiamo inserendo una formula e non dei semplici valori. Vedete se io faccio clic qui il cursore entra nella cella perché pensa che io debba scrivere perché non c'è una formula in background. Quindi abbiamo imparato che queste celle presentano un duplice aspetto. Il numero che viene evidenziato, che si può digitare se vogliamo, con un'eventuale formula che sta alle sue spalle, come in questo caso. Poi notate che è semplice. Moda si chiama moda. Poi c'è una parentesi, questa parentesi ci dice A4 due punti K4. E com'è? Beh è una specie di battaglia navale, no? Quindi andiamo a vedere A4, eccolo qua. L'A4 è questa. A4. Colpito e affondato. Arriviamo da A4 fino a in questo caso K perché avremmo potuto anche avere degli altri voti da inserire. E poi sono tutte così. La mediana sarà mediana. Tra parentesi sono racchiuse gli intervalli di celle, lo chiamiamo con il nome che gli spetta di diritto. Intervallo di celle, deviazione standard, dev, st e voto medio sarà media. Quindi la procedura è questa. Ma vediamo, la creiamo un attimo, in due secondi, cambiando foglio. Dunque, abbiamo questa serie di voti. Vogliamo calcolare la moda. Doppio clic. Digitiamo uguale. Poi abbiamo detto moda. Benissimo. Andiamo a cercare. Digitiamo le prime lettere. Moda. Bene. Lui già ci dà dei suggerimenti. E a noi vanno bene questi suggerimenti perché indica la scala. Altrimenti noi faremo così. Mentre digitiamo, ripetiamo l'operazione. Quindi, maiuscule uguale e poi moda. Selezioniamo la formula. Poi prendiamo i valori, trasciniamo fino a qui e lui automaticamente ci indica qual è l'intervallo. L'intervallo è compreso tra le cellule, scusate, tra le celle A9 e F9. Cosa manca? Manca una parentesi per racchiudere l'intervallo e chiudere la formula. Inseriamo la parentesi ed ecco che abbiamo inserito la moda. Adesso facciamo un'altra cosa. Io prendo questi voti e li metto, non lo so, qua. E li cambio. Cosa devo fare? Devo ripetere di nuovo l'operazione che ho eseguito qui sopra per poter avere lo stesso calcolo della moda per questa serie di voti? No, basta che io faccia così, trascino e automaticamente lui mi inserirà le formule lungo tutta questa colonna. N, D perché non ci sono valori, naturalmente, ma qui il valore è corretto e la formula è stata aggiornata. Le celle vanno dalla A13 all'F13, prima andavano invece dalla A9, F9. Lo stesso vale per la mediana, ricordatevi sempre, uguale med, cominciamo a scrivere med e vediamo che cosa ci offre. Ci offre un sacco di opportunità perché le funzioni sono tante, è un foglio di calcolo, ma noi scegliamo sempre quella che ci interessa, quindi in questo caso la mediana. E poi continuiamo, trasciniamo l'intervallo, il cursore sulle celle in modo da stabilire l'intervallo necessario e così via. E per oggi è tutto, per quanto riguarda questa analisi, poi analizzeremo le serie di voti da un altro punto di vista nel prossimo webinar. Ciao! Ciao! Ciao!